Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley. Prima di cominciare con la recensione della serie di oggi, vi ricordo importantissimo di iscriversi al canale. Iscrivetevi al canale così possiamo crescere e magari fare qualcosa di diverso dal solito. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di una serie molto recente, del 2023, attualmente disponibile su Naughty View. Vi avverto che ci sarà qualche spoiler, ma questa serie è tratta da un videogioco talmente famoso che non credo farò chissà che danni. La serie si intitola The Last of Us, tratta, come già detto, dall'omonimo videogame creato da Alan Druckmann, serie realizzata per HBO da Craig Mazin, che ci ricordiamo per il bellissimo Chernobyl, e dallo stesso Druckmann. Sin dal film di Romero, Zombie, del 1978, l'immagine del non morto, del cadavere che riprende vita a causa di un virus, è diventata iconica. I zombie sono delle icone moderne, non solo per il cinema, ma anche per i fumetti e per i videogiochi. Lo zombie non passa mai di moda, anzi, decennio dopo decennio riesce a reinventarsi. Penso alla saga di Resident Evil o The Walking Dead, e a quei film che più o meno ogni anno escono cercando di dire qualcosa di nuovo sul tema, non sempre riuscendoci. The Last of Us parla di zombie, anzi, in questa serie vengono chiamati gli infetti. Stavolta non si tratta di un virus, bensì di un fungo, che approfittando dei cambiamenti climatici, infatti un fungo che prolifera più facilmente a temperature calde, entra nel metabolismo degli esseri umani attraverso la farina e i milioni di prodotti da essa derivati, e come potete immaginare, si scatena un'apocalisse. Il risultato di questa catastrofica infezione è la fine dell'umanità. Città distrutte e abbandonate e i pochi superstiti divisi in gruppi, in eterno conflitto fra di loro per razioni di cibo, acqua o le scarse fonti di energia. Protagonista della serie è Joel, interpretato dall'idolo dei nerd di tutto il mondo, Pedro Pascal, vi ricordo è il mandaloriano della serie di Disney+. E nel primo episodio vediamo Joel, che vive da solo con la sua figlia adolescente e lavora in una piccola azienda di lavori edili. E devo ammettere che in questo primo episodio la chimica tra Pedro Pascal e la giovane attrice che interpreta la figlia, Sarah Miller, è davvero una delle cose che rimane più impressa. Un aspetto che ho apprezzato molto di questo primo episodio di The Last of Us è il fatto che noi spettatori entriamo in contatto con questa apocalisse provocata dal fungo, un po' come potrebbe succedere nella realtà. Ci troviamo in mezzo al disastro all'improvviso, con pochissime informazioni, con questi elicotteri della polizia che iniziano a girare sulle nostre teste, e con i nostri vicini di casa che all'improvviso si trasformano in delle bestie assetate di sangue. Joel e sua figlia cercano di scappare dalla folla che ovviamente è in preda al panico, ma vengono fermati da un militare che spara e uccide la figlia di Joel. Dopo questo tragico evento la serie fa un salto in avanti di vent'anni e vediamo un mondo che probabilmente è tornato alle sue forme più primitive. E vediamo un bambino camminare da solo in una specie di bosco che viene raccolto da un gruppo di sopravvissuti e viene portato nel villaggio di questi sopravvissuti, dove una guardia lo fa bere, gli dà da mangiare e lo rincuora dicendogli stai tranquillo, da oggi in poi andrà tutto bene. Peccato che quel bambino risulti positivo al test del fungo. Infatti immediatamente dopo lo vediamo cadavere tra le braccia di Joel che lo butta tra le fiamme. Ecco, questa serie non fa sconti e questo è un suo punto di forza, un po' come potrebbe essere un film sull'olocausto. Noi vediamo l'umanità portata al suo estremo di sopportazione, la vediamo compiere dei gesti veramente terribili ma purtroppo plausibili. The Last of Us ci mette di fronte al nostro lato più autoconservativo e devo ammettere che questo fa più paura di uno zombie o di un infetto. A Joel viene affidato un compito. Deve scortare una ragazzina di nome Ellie, interpretata da Bella Ramsey, nel quartiere generale di un gruppo che si fa chiamare Fireflies, che è un gruppo che più degli altri si erge a guida in questo mondo privo di punti di riferimento. Joel, che è un tipo di poche parole e di poche domande, accetta l'incarico senza farsi troppi problemi. E qui inizia la parte on the road di The Last of Us, che è la parte anche diciamo più soddisfacente. Perché attraversando questo mondo deserto e abbandonato insieme ai due protagonisti, noi entriamo in contatto diretto con quella che è l'eccellenza di questa serie. E cioè il production value, il set design, le location, le scenografie. Devo ammettere che The Last of Us da questo punto di vista raggiunge l'eccellenza. C'è un episodio in particolare che mi ha veramente colpito ed è tutto ambientato in un centro commerciale abbandonato. Devo ammettere che da un punto di vista produttivo solo quell'episodio probabilmente vale tutta la serie. Seppur da un punto di vista narrativo The Last of Us aggiunga poco al tema zombie e survival, è nella sua messa in scena che fa davvero la differenza. La svolta della serie avviene quando scopriamo che Ellie è stata attaccata da un infetto, ma non è stata infettata. Quindi di fatto lei è la prima immune al fungo da vent'anni a questa parte. E proprio per questo Joel la deve portare nel quartier generale dei Fireflies, perché i Fireflies sperano, studiando la ragazzina, di poter trovare una cura per contrastare questo fungo. E qui la serie secondo me pone il suo tema più interessante, non tanto per la natura del tema in sé, ma perché questa serie noi spettatori l'abbiamo guardata dopo una reale pandemia. Seppur ognuno chiuso nella propria casa, abbiamo tutti avuto un assaggio in potenza di una reale catastrofe creata da un virus. E ognuno di noi, a modo suo, ha cercato di far fronte alla paura di un qualcosa di sconosciuto, di invisibile, al cercare di capire dove andiamo da adesso in poi, cosa succede domani. Nel periodo della pandemia, secondo me, ognuno di noi si è chiesto dove la troviamo, la forza e la pazienza di aspettare di capire che cosa succede dopo. Joel, il protagonista della serie, in realtà questa domanda ha smesso di farsela dal momento in cui è morta sua figlia. Anzi, tutto ciò che è arrivato dopo l'apocalisse e la distruzione del mondo, per lui è una naturale conseguenza della sua perdita. Joel ha perso la speranza, la visione del futuro. Ma ora Joel, con Ellie, ha davanti a sé un essere umano che può essere davvero la salvezza di tutti gli altri esseri umani rimasti in vita nel mondo. E ora Joel è costretto di nuovo a farsela quella domanda. Dove la trovo? La forza, la pazienza e la speranza di capire che cosa arriva dopo. Per la mia esperienza personale, sicuramente l'aver vissuto il periodo del covid mi ha permesso di entrare in contatto molto profondo con la psicologia di questi personaggi. C'è un'altra dolorosa domanda che alleggia in tutta la serie ed è, ma ne vale la pena? Cioè, trovare una cura al fungo non vuol dire salvare l'umanità, ma vuol dire salvare questa umanità, l'umanità che è sopravvissuta. Ma è un'umanità che sta dando il peggio, è un'umanità che depreda, uccide, stupra. E quindi anche Joel si fa questa domanda, ne vale veramente la pena di salvare questo mondo? Joel, essendo comunque un personaggio molto cinico, crede di no. Crede che il mondo non meriti di essere salvato. Però vuole dare una seconda chance proprio a Ellie, perché Ellie è nata dopo la catastrofe del fungo. Quindi per lei il mondo prima è solo una storia raccontata prima di andare a letto. Joel in lei vede la curiosità di quello che può essere un mondo dopo e questo gli dà la forza di portare a termine la sua missione. Durante il viaggio Joel e Ellie incontrano tantissimi personaggi secondari, tutti devo dire di un notevole spessore. Ma non entro troppo nei dettagli per non rovinarvi la scoperta. Vi dico solo che nell'ultimo episodio Joel dovrà scegliere se salvare Ellie o salvare il mondo. L'aspetto più interessante di The Last of Us è sicuramente il suo lato umano. La serie infatti ha il pregio di non crogiolarsi nei suoi aspetti più horror e action, ma al contrario si prende delle lunghe pause. Ci sono dei momenti in cui letteralmente si ferma per permettere a noi spettatori di entrare in un contatto molto empatico con i personaggi. Alla fine noi visivamente assistiamo a scene di persone che camminano, che aspettano di passare una frontiera o un fiume o che si nascondono. C'è una notevole dose di realismo che in una produzione così pop fa veramente la differenza. L'esempio più riuscito di questa dinamica narrativa della serie è il famoso episodio 3. Ed è un episodio completamente staccato dal resto della serie in cui noi vediamo semplicemente la vita di due persone negli anni in cui questa pandemia, questo fungo si sviluppa e quindi si crea l'apocalisse. E durante questi anni di abbandono, morte e distruzione, queste due persone comunque si incontrano, si amano, vivono insieme, litigano, fanno sogni, progetti, li distruggono. E noi assistiamo alla loro vita quotidiana in questo contesto completamente fuori dal mondo. Ma The Last of Us, appunto, rimanendo sull'essere umano, sul personaggio, ci regala momenti veramente intensi. Perché la forza di questa serie sta proprio nel fatto che ci ricorda che noi esseri umani saremo, si spera, sempre più forti di un virus e di un fungo, proprio per la nostra umanità. Per quanto purtroppo la nostra natura ci spinga a prevaricare, devastare, uccidere, The Last of Us ci dice che nel nostro nucleo più intimo c'è comunque una grande umanità che cerca sempre altra umanità. The Last of Us è una serie che vi consiglio, per carità non l'ho trovata originalissima, ma sicuramente più interessante di altri prodotti che trattano lo stesso tema. Come ho già detto, a livello realizzativo è una goduria per gli occhi e anche la colonna sonora di Gustavo Santaolalla è notevole. E il formato in soli 9 episodi la rende anche di veloce fruizione. Non ho mai giocato al videogioco da cui la serie tratta, quindi non ho goduto di quella videosimiglianza che molti gamer hanno esaltato nelle loro recensioni. Però questo mi fa dire che The Last of Us è un prodotto che non è stato fatto ad hoc per chi già lo conosceva, ma è una produzione che è stata ben pensata e ben realizzata. Non peraltro è un prodotto di HBO e HBO difficilmente sbaglia. Quindi vi ricordo The Last of Us su Now TV, una serie da non sottovalutare e adesso ci abbiniamo una birra storica. La birra che ho deciso di abbinare a The Last of Us è la Wichtenar del birrificio belga Verhage. La Wichtenar è una Red Flemish. Che cosa vuol dire? Fondamentalmente è un blend di una birra rossa, chiamiamola in maniera semplice così, e un mosto di birra acido. Come si fa ad inacidire un mosto di birra? Semplicemente lo si tiene in botte e quindi il mosto si infetta di tutti i batteri presenti nella botte e soprattutto di batteri aerobici, tra cui anche i lieviti aerobici, che donano alla birra un sapore acidulo che può ricordare quello di un vino naturale o un vino rosato. È una birra appunto acre ma estremamente dissetante ed è una birra storica nella tradizione brassicola europea, una delle più antiche forse. Ho scelto di abbinare questa birra a The Last of Us perché questa è una cosiddetta birra eterna. Avendo una parte di mosto acido, quindi di mosto in cui il lievito ha smesso di operare, questa birra può essere anche bevuta fra cent'anni e sarà identica ad oggi, anzi forse sarà ancora più buona. E quindi mi sono immaginato in un futuro post-apocalittico di avere un colpo di fortuna e trovare una cassa di una birra del genere che negli anni non è scaduta e quindi più che bevibile. The Last of Us abbinato a una buona Victenal. Dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.